Come pensavi che sarebbe stato? Te lo faccio vedere. Vorrei avere soltanto un po' di privacy. Ehi, a chi stai scrivendo? Ville dice che oggi torna. Questa è una notiziona, cavolo. Simon, secondo te è una cosa così strana che io voglia una vita normale? Ville, un giorno sarai un sovrano eccezionale. Lo so che c'è un po' di tensione tra te e il principe. Io amo la monarchia. Tu non farai mai parte della mia famiglia. Io non ti lascerò mai prendere il mio posto, scordatelo. Tu non sei ancora il re. Cosa ti piace così tanto della monarchia? Il fatto è che io lo vedo come ti fa sentire. Il futuro della scuola dipende tutto da questa indagine. Il Lershka rischia la chiusura con effetto immediato. Non possiamo permetterci altri scandali. Dovrai essere in grado di prendere il mio posto. Ma se io non volessi... C'è una crescente minaccia nei confronti del principe. Quello che fai si ripercuote su di me e la famiglia reale. Io cerco sempre di esserci per lui. Ma qualunque cosa faccia finisce sempre male. L'amore non dovrebbe essere così difficile. Come fai a dimenticare la tua migliore amica? Mi sei mancata tanto da stare male. Non ti riconosco più. Possiamo dimenticare quello che è successo solo per stasera. È tutto a posto fra noi. Non ti riconosco più.